Atalanta a Bologna termina 1 a 2, l'Atalanta gioca in quelli Bergamo, quindi in casa, in Bologna fuori casa, quindi non a Bologna, e dunque l'Atalanta perde contro il Bologna. Il gol per l'Atalanta lo segna il buon Lukman, nel primo tempo le risposte del Bologna arrivano entrambi nel secondo tempo, di cui un gol su rigore di Zirzi e l'altro di Ferguson, sempre nel secondo tempo. Statistiche buone per l'Atalanta, più possesso di palla, molti più passaggi, una previsione di passaggi che però è uguale a quella del Bologna, la percentuale infatti la stessa. Beh, comunque, complimenti al Bologna perché ha vinto contro l'Atalanta, l'Atalanta invece ha perso clamorosamente parlando. Grazie a tutti utenti di Youtube, il video termina qua, iscrivetevi, seguitevi, mi raccomando, commentate. Una buona sera da voi e complimenti alle squadre che hanno giocato.